Un grazie dunque innanzitutto ai volontari, il primo grazie prima che a tutti gli altri. Il secondo grazie è per Andrea Orlando e per Michele Emiliano, cui vorrei che tutti noi mandassimo un abbraccio affettuoso. Terremo conto della loro battaglia, della straordinaria passione con cui Michele Emiliano ha posto alcuni temi, a cominciare da quello del sud, del mezzogiorno, che è un tema assolutamente prioritario per il futuro del Paese, della forza con cui Andrea Orlando ha insistito sul valore dell'unità, dell'unire, non soltanto il nostro partito, ma dell'unire il Paese. E noi abbiamo bisogno di imparare anche dalle altre emozioni.